E se un giorno anziano vedrò, bambina mia, bambina, quello molto caro di mamma vero, bambina mia, bambina, nel mio dolore posare saprò, posar la vita mia, a quella vista il mio cuore saprà, mamma soltanto amar, mamma mia mamma, io son con te, mamma mia mamma, vivo per te, ed il mio amore per sempre sarà felicità. E se un giorno anziano vedrò, felicità. Prima di concludere questa puntata di oggi... Ricordiamo, ricordiamo, Romagna Mia. Tra qualche settimana inizieranno le riprese, cioè voi vedrete le riprese del programma nuovo Romagna Mia, Onze... On the road, estate... Mare Monti, lontano da te non si può stare, ci sarà Gianfranco Gori insieme a me, ci sarà anche Cinzia, ci saranno un sacco di amici nuovissimi, un sacco di attori, ospiti internazionali, musica naturalmente che non potrà mancare perché è la regina delle nostre puntate, e poi che dire? Che dire l'appuntamento? Se volete maggiori informazioni potete telefonare ai nostri uffici, se no cliccate su www.casadaisonora.it e sarete veramente immediatamente informati su tutte le novità di quest'estate. Vi aspettiamo. Io non ho più fiato, vorrevo salutarti, ringraziarti ancora una volta di essere stati insieme a me per tutta la settimana, e aver avuto una pazienza enorme perché io questa settimana veramente ero un po' sulle nuvole. Sono l'uomo patience. E che dire? Concludiamo così questa puntata e come sempre io vi aspetto la prossima settimana per una nuova puntata, chissà se ci sarà il nostro Gianfranco, se non ci sarà, e comunque lo vedrete presto vicino a noi tutti i giorni perché farà il programma insieme a me e naturalmente a tutte le altre persone. Ciao amici, a presto! Ciao! Ciao! Ciao!